Dovrebbero essere i cuffariani il tramite politico per agganciare la giunta greco ai rinforzi di centrodestra. Lo schema almeno potenziale dovrebbe essere questo e il sindaco dà credito alla linea tratteggiata dalla dirigenza della nuova DC, gruppo che sembrava con la valigia in mano e che almeno per ora rimarrà con l'avvocato. Ieri ennesima giornata complessa a Palazzo di Città, la riunione di giunta che era stata fissata e saltata e anche in consiglio comunale le cose non sono andate meglio. Gli alleati del primo cittadino in larga parte sono stati spiazzati dall'apertura piena che l'avvocato ha fatto ai cuffariani. Per la dirigenza centrista si può ripartire solo passando dal centrodestra e azzerando la giunta attuale. I primi contatti concreti potrebbero esserci in questi giorni, le perplessità ma non solo quelle ci sono e come tra i progreco la svolta sempre che tale diventi si incastra in un periodo molto delicato per le sorti amministrative del progetto del sindaco. Si dovrà uscire dal pantano degli atti finanziari senza conseguenze per l'ente e per la sisi civica. Gli azzurri di Forza Italia hanno già salutato gli ex compagni di avventura e sono transitati nelle fila dell'opposizione. La stessa che attraverso le anime di centrodestra dovrebbe intervenire a sostegno dell'amministrazione comunale. Greco sembra confidare nei cuffariani che intanto hanno ricevuto il riconoscimento politico che probabilmente segna il discrimine tra il divorcio dal sindaco e una permanenza. Non si capisce ancora bene se solo a tempo bisognerà capire se il gruppo della nuova DC riuscirà a fare da collante effettivo con l'opposizione di centrodestra. Molti alleati dell'avvocato sembrano scettici anche se non intendono uscire allo scoperto almeno per ora. Azzerrare la giunta significherebbe resettare l'orologio di una coalizione che ha già perso pezzi ma che potrebbe ottenerne di nuovi sempre che il tentativo riesca a sortire effetti. Ieri mattina il sindaco ha incontrato gli alleati. La scelta di valutare le proposte dei cuffariani ha sicuramente sorpreso molti. A questo punto l'eventuale schema di una giunta rivista solo in chiave strettamente progreco è congelato. Potrebbe nascere un'alleanza in attesa se si aprissero barchi nel centrodestra. Al momento non sembra così probabile.